Mare, deserto, storie millenarie, colori inconfondibili. La Baia dello Sheikho, nella penisola del Sinai, in Egitto. Ecco a voi Sharm el Sheikh II Valtour. Contrasto di architetture moderne e tende beduine. Come sfondo, la bellezza dei fondali del Mar Rosso e un'entroterra ricco di fascino e storia. Escursioni nel deserto, giornate in barca, panorami senza confini. Un mix di divertimento, fascino e cultura. Il Nilo e il Cairo a un'ora di volo. Tra le rocce del Monte Sinai, direttamente sul mare, sorge il villaggio Valtour Sinai Grand Resort. Dotato di tutti i comfort, il villaggio è frutto di un design che coniuga bellezza, eleganza, funzionalità. Boutique, bar in spiaggia e nella struttura centrale, negozi tipici, campi sportivi. Grandi spazi, ma al tempo stesso riservati. Due piscine, spiagge private a ridosso della barriera corallina, per momenti davvero esclusivi. Un gusto made in Italy, curato da chef di alto livello. Qui a Charm, la vera cucina italiana Valtour. Ristoranti al chiuso e all'aperto, dove gustare specialità di pesce e piatti tipici della tradizione egiziana. Dietro la facciata colorata di una tenda al centro del villaggio, il caffè Beduino, un lusso tutto locale, fatto di elementi grezzi, ma pieni di fascino. Un cocktail di aromi che nascono dalla mescolanza di tè, infusi e narghilè. Valtour Sina e Grand Resort. Villaggi e hotel, due zone distinte, due tipologie di camere. Standard e suite. Eleganti, accoglienti, fornite dei migliori comfort per chi vuole vivere la vacanza in un ambiente esclusivo e rilassante. Massaggi, bagno turco, relax, profumi. Nell'affascinante Beauty Center, trattamenti di bellezza personalizzati. Per farti sentire speciale, alla ricerca del benessere fisico e interiore. Il Mar Rosso, più che un fondale sottomarino, una galleria d'arte. Un regalo della natura per gli amanti degli sport acquatici. Diving, snorkeling. Guidati da uno staff di professionisti alla scoperta dei punti di immersione più belli del mondo. Diving, snorkeling. Animazione, giochi, feste, spettacoli. Al mattino in piscina e in spiaggia, la sera in ampiteatro e nella discoteca. Un galeone a picco sul mare. Charme El Sheik. A sole tre ore di aereo dall'Italia, l'estate tutto l'anno. Valtour. Il villaggio siamo noi.